bene ragazzi ricominciamo il nostro let's play da dove da dove c'erano lasciati una volta scorsa oltre allo spavento ho trovato chiave dalla cantina dell'edificio annesso e mi sorge il dubbio aspetta intanto sappiamo perchè non vorrei rincontrare la ony subito ma non è questa questo battito animale non mi piace no perchè sono uscito mi buttano in paranoia questo battito questo rumore sembrava quasi un sipilo ma spostiamo la pianta ah e luce fu ho trovato oggetto libro illustrato no vabbè vediamo un po' se c'è qualcosa su questi aoni come come levarli di giorno e questo che è scusate tra l'altro l'oggetto segna libero oh cos'è cos'è a che mi serve un segno libro qui cosa c'è chiave rossa e dai si no no ancora a meno male la porta è chiusa aspetta salvo perchè porca miseria porca miseria a risalvo metti in agitazione questo questo ony vai che c'è la porta chiusa la porta chiusa aspetta un attimo c'è il tastierino vuoi vedere che devo usare il cacciavite a stella ma di sicuro per smontare la chiave si la chiave per smontare allora vediamo un attimo rosso verde bianco blu ma non è che devo usare questo rosso 1 bianco 3 verde 2 aspettate un attimo che me le scrive ragazzi se no le divento matto trovo una penna accidenti aspettate un attimo devo prima vedere allora rosso 1 rosso 1 verde 2 bianchi 3 bianchi 3 12 3 12 7 ma ragazzi che genio che sono we non so se mi beccano oppure c'ho un po' di fortuna mamma mia ragazzi ufff questa ony sta diventando sempre più che che c'è? eh volevi disco disco stu aspetta un attimo salviamo va ora aria riserviamo ufff c'è takuro shark takuro stai bene? sì ma mi sono storto la caviglia aspetterò qui per un attimo ok ho trovato questa poco fa partava con te aceto e che è? ci si condisce in salata ragazzi? lampadina lampadina di una lampa beh scheggia il piatto una vecchia chiave rossa dell'aceto della cucina forse 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 lo trovo per qui ma scusami ah ma era ruggine oh no un altro puzzle ancora mamma mia e questo come si risolve? ragazzi stavo pensando a una soluzione e forse sono riuscito a risolverlo allora fatemi rivedere un attimo il disco scusate ragazzi se questa parte viene un po' muscia però quindi dovrebbe essere rosso giallo 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 di nuovo perchè erano due poi 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 blu un'altra volta giallo e infine dovrebbe essere rosso giallo e ma vai grande ragazzi questo enigma mi ha fatto un po' perdere qualche minuto eh però barra metallica ok andiamo andiamo aspetta salviamo la barra metallica la barra metallica la barra metallica mi fa vedere ma ma sbagliando una chiave ragazzi chiave della porta nascosta l'abbiamo trovata ragazzi aspetta salviamo uh c'è una scala sembra si possa uscire da qui devo portare il takuro qui ma no vai dai forza no niente e vabbè andiamo a prendere il takuro aspetta sappiamo perché non si sa mai dici sul serio shark e certo takuro si è unito a te oh mamma mia suona un po' strano così no vabbè dai non perdiamo tempo ragazzi e leviamo le tende a questo postaccio dai io sape non si sa mai no maledetto 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 corri scappa 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 da dove è bagno datemi il bagno dove è bagno dai capocchio suuu e dai ma la finisci mamma mia e salendo su e purtroppo ci toccherà trovare un'altra via di uscita perchè il capocchione il capuccione si è mangiato le scalette che porca di quella miseria ascia qui cosa eh ho trovato l'oggetto chiave dalla porta su te va bene ragazzi per ora concludo qua da shak è tutto ciao a tutti